Attenzione colpo di scena, King Quest voleva solo umiliare l'avversario e la partita di precedente non vale, quindi siamo rimasti sull'1-1. Vediamo cosa succederà in questa giunta. Uno pare a ricominciare a ladder, tesissimo incontro fra Dayan, il campione in carica di questa ladder a punteggio pieno contro Questar che fa il suo primo incontro. Attenzione, guardi in qualche effetto con presa scimmiata che rovina tutta questa bella iniziativa. Talim non ci sta, parla di mosse avversarie, presa, gioco a terra, attenzione, mosse a caso, Dayan non scimmia, Dayan non get presso, ci sta deludendo. Combo su combo, pressing a muro, Nightmare in crisi, viene sconfitto il primo round. Attenzione, attenzione. Il primo classificato di questa ladder stasera potrebbe subire l'ira del giocatore più tartargone nel live, che però gioca con molta intelligenza, ci dicono. Talim scimmia calci alle spalle, Dayan salta a caso, gli infila un clistero nella spinco, implocabile a vuoto. A-A a caso, non si capisce cosa voglia fare. Attenzione. Presa di A. Dayan in crisi, si difende, non riesce a fermare i colpi dell'avversario, scimmiata in bocca, col combo, colpi a caso, colpi a caso. E' un altro round per questo. Forse è il colore del vestito di Nightmare, questo verde ramarro, inguardabile, che lo rende più debole del solito. Non indaghiamo sui motivi, ma gustiamoci questo scontro al vertice tra scimmie e tartarule. Molta intelligenza in queste sequenze, molta, molta intelligenza. Nightmare, attenzione, fa un just to chemi, stupendo tutti, però peccato sia inutile, perché si becca un'altra tramvata di sberle. Throw break, attenzione, questo non vuole essere scaraventato fuori. Manate infatti alla povera Tali, padella in faccia, parata, gli avversari si studiano, passo l'emera da online, attenzione. Nightmare, prova a scimmiare, ma fallisce, non è ancora finita, non è ancora finita, invece è finita. 2-1 per questa.